ciao a tutti amici benvenuti sul canale di Lina prima di bastare al nostro video vorrei ricordarvi di iscrivervi e attivare la campanella così restate a tornarsi nel mio video che lo posterò e vorrei ricordarvi anche il mio nuovo canale di Cucina Cucina Collina che trovate il logo alla fine del video ok detto questo passiamo al nostro video ciao a tutti voi ritrovati sul canale di Lina detto c'è ancora con qualche bollettino sempre con il valore di 9 euro numeri fortunati 7 e mezzo fortuna e 7 metri da 1 euro ok questa è la spesa totale di 9 euro allora continuiamo la nostra rubrica di 9 euro e cominciamo con il piccolino questo è un nuovo 7 metri da 1 euro allora questo è il bullito 63 della serie 43 segniamo un po vediamo se ho capace dobbiamo segnare il banco buona visione a tutti amici abbiamo 3 e mezzo ok qui abbiamo 1 2 e mezzo niente da fare vediamo la cassa bonus abbiamo un 4 e niente il litro non c'entra il numero 63 ok passiamo al prossimo che è un posto a fortuna mini qui qui ci sono amici devo inquadrare bene che voi vedete ma io no allora soldi ferro ferro e anello Primo simbolo, abbiamo il portiere, poi abbiamo l'anello, mi sembra di averlo, eccolo, abbiamo il lingotto e la bevuta, continuiamo con il sole, abbiamo la fragola, elefante e stella, niente, per 2, abbiamo la tartaruga, per 5, abbiamo il corno, no, l'anello ci dice 5 euro, ok, meglio di 2, diciamo così, allora il biglietto numero 8, 083 e Vincenzo con 5 euro, ok, facciamo da parte, passiamo un settembre da 3, questo è il numero 38 della serie 7, scusate, allora dobbiamo superare sempre il banco, quante, 2 e 3, sarebbe un 5 e mezzo, allora noi dobbiamo superare il 5 e mezzo, le nostre carte abbiamo 3, 4 e mezzo, non c'è da fare, seconda toccata, 1, 3 e mezzo, niente da fare, 4, mezzo, 4, 5, no, questo è 5 e mezzo, no, ritiamo indietro, per mezzo punto, vediamo un po' le carte bonus, 6, se non ti interessa, e la regina, regina, noi abbiamo regina, no, noi abbiamo, ulti re, 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 regina, regina, biglietto non è in cento, no, niente, ok, il numero 38 non è in cento, passiamo all'ultimo bigliettino della grattata, che è il numero 10 della serie 91, ed è un numero di fortunati, vediamo un po' che ci dicono questi numeri fortunati, primo numero, 69, eccolo qua, abbiamo 71, non c'è, 43, neanche che, 18, ok, abbiamo 23, 23, non ce l'abbiamo, 14, neanche, 70, ok, e 58, eccolo qua, abbiamo 55, continuiamo con 25, non c'è, 34, 59, 34, non c'è, 74, neanche che, abbiamo 54, bene, biglietto non c'è, non c'è, una colonna, abbiamo 63, 61, e 64, e non ci importa niente, comunque abbiamo vinto con la prima colonna che ti dice 3 euro, ok, ripreso il biglietto, questo è il numero 10, quella serie 91, allora, cosa abbiamo fatto oggi, con le 9 euro di spesa che abbiamo avuto, abbiamo ripreso 5,38, ok, siamo in perdita di 1 euro oggi, possiamo dire che c'è andata bene, ok, il resto 5 euro con fortuna e 3 euro con numeri fortunati, ok, oggi non c'è andata male, magari potete vedere le volte così, ok, intanto ringrazio tutti per la visione, amici, video appuntamento, buoni amici, condividete, iscrivetevi al pollicato, ricordo sempre i miei nuovi canali, logo a fine video, ciao a tutti, buona giornata a tutti, un bacio, un abbraccio alla lina, ciao, al prossimo video. Ciao a tutti, ciao. Grazie a tutti.